Musica Linea diretta, buongiorno e ben ritrovati Come anticipato dunque siamo insieme al Sinaco di Padova Massimo Bitonci, buongiorno e ben trovato Buongiorno, buongiorno a tutti Abbiamo 30-35 minuti, dobbiamo giocarceli bene Perché abbiamo tante cose di cui parlare E lo diciamo subito, lo vedete in sovraimpressione 049 7625 613 Quindi approfittatene per fare delle domande al Sinaco È in diretta qui con noi oggi Un appuntamento che tra l'altro vorremmo anche riproporre un po' spesso Per fare tagliando quello che sta facendo in questi primi mesi La cosa invece da cui vorrei partire però è l'apertura di molti quotidiani oggi Altri 210 immigrati ha letto Nonostante l'appello un po' negli ultimi tempi da parte degli stessi prefetti Cuttaia da Venezia, insomma fino ad arrivare a Patrizia Impresa a Padova Però sembra che questo tema non trovi risposta o sponda nel governo Ma questa è una cosa che ha dell'incredibile Perché nel momento in cui lo stesso prefetto Impresa di Padova E lo stesso prefetto di Venezia Dicono che ormai in Veneto siamo arrivati al limite E che quindi queste persone non possono più essere ospitate Nelle nostre città Ma il governo dovrebbe ascoltare quello che è l'ufficiale di governo di riferimento territoriale Che è il prefetto E allora capisco e comprendo quanto male sia stata gestita questa operazione A partire da Mare Nostro L'anno scorso sono arrivate 180.000 persone Se consideriamo che Padova è una città di poco più di 200.000 abitanti Una città come Padova di persone che devono essere mantenute Che hanno ottenuto i 35 euro al giorno Che devono essere ovviamente aviate nei vari centri È una situazione incredibile E io ribadisco quello che è la lamentela da parte anche di tutti gli amministratori locali Che quella non potete sempre scaricare sui sindaci Che sono la frontiera della politica del territorio Dei problemi che sono mal gestiti a livello centrale Senta sindaco, pochi minuti fa è stato rilanciato un po' quella che è la sua opinione Ha detto che non vanno spediti in Veneto Che appunto non li vorrebbe accogliere Così come ha detto anche lo stesso presidente Zaia Ma andrebbero mandati a casa di Renzi A Firenze Non c'è questa provocazione No, ma questa è una polemica Una polemica che ci sta tutta Perché nell'ultimi due mesi Sono stati mandati in Veneto 2.000 Più questi altri 210 Insomma siamo a numeri esagerati Io non penso che il Veneto Possa gestire presenze di clandestini Perché in realtà questi sono veri e propri clandestini Perché vogliamo ricordare a chi ci ascolta Che solamente un 10% di quelli che arrivano Otterranno poi il riconoscimento definitivo come rifugiati di guerra Il 90% resteranno clandestini Molti di questi scappano dai centri di accoglienza Ce li troviamo in giro per le strade Abbiamo visto che situazione che c'è anche a Pado Allora quello che mi dispiace francamente È che noi da qualche mese Stiamo lavorando molto intensamente Nel campo della sicurezza Abbiamo risolto dei problemi in stazione Abbiamo riaperto quella che era L'ufficio della polizia Che era chiuso in via d'avanzo Stiamo ragionando sui presidi territoriali Abbiamo aumentato l'organico Abbiamo cambiato l'armamento Stiamo lavorando molto sul campo della sicurezza Abbiamo un piano di due anni Di due milioni di euro di telecamere Ma telecamere intelligenti Quelli che vedono i movimenti delle persone Quindi stiamo investendo molto Però il problema è questo Che se dopo arrivano centinaia e centinaia di sbandati Nei nostri città E questi dopo ce li troviamo in giro Ed è chiaro il fatto che questi dopo magari Vanno in giro per la città E cercano di vivere di esperienti Questo non l'aiuta quindi Ovviamente lei dice Questo è completamente in contrasto Con la politica sulla sicurezza che stiamo facendo In effetti poi Anche se ovviamente i furti È difficile sconfiggere in maniera Io questo voglio dire Non sono commessi chiaramente solo da stranieri o immigrati Quindi anche nell'ultima settimana Abbiamo raccontato di aggressione O comunque di rapine Quindi quello Chiaramente è una città con grandi problematiche Saranno difficili È una città con grandi problematiche Che non può neppure essere considerata Rispetto ad altre realtà È sempre stato un crocevia I problemi di droga a Padova Sono conosciuti ormai da anni Lo era a Milano Lo era a Verona Negli ultimi anni è diventato Padova Centro di smistamento Abbiamo ottenuto rinforzi Da parte della polizia e dei calabinieri Perché sappiamo che a Padova Era una delle città che aveva i presidi militari Con questa operazione Abbiamo tolto dei punti Che comunque erano importanti Perché c'era la camionetta dei militari Questo aiuta o aiuterebbe? Questo aiuterebbe Perché il presidio del territorio È un'arma fondamentale Pochi giorni fa Il prefetto Kutai Insomma sempre a Venezia Quello che per la regione Ricordiamo si sta occupando Proprio dell'accoglienza E prima ha detto Accogliamoli Adesso ha lanciato anche lui Comunque un appello Non c'è più spazio Insomma di questa difficoltà L'ha sottolineato anche il prefetto Kutai A Venezia Ha detto che si attende Il ritorno delle pattuglie miste Ma c'è un cambiamento? C'è qualcosa che non risulta? Padova non è ricompresa Tra le città destinatarie Di questo importante servizio Noi cercheremo di trovare Delle soluzioni alternative Per esempio stiamo ragionando Assieme al comandante Al neocomandante Paolo Occi E all'assessore Saia Di interessare anche Forme di controllo anche privato Perché ovviamente la sera Non bastano solamente Le volanti della polizia Le volanti dei carabinieri E le volanti della polizia municipale Stiamo ragionando Per un servizio anche privato Pagato dall'amministrazione comunale Quindi è facile che nei prossimi mesi Vediate in giro per la città Anche dei ranger Comunque delle altre figure In collaborazione sempre con La polizia municipale E con il comune Questa è un'idea di Saia All'americana se non ricordo male Questa è una cosa che è già stata fatta Anche in altri comuni Anche dell'altra padovana Nel distretto Nel distretto L'idea è di quella di fare Un rapporto comunque Di stretta collaborazione Quindi di far girare Assieme alla polizia municipale Anche dei privati E dei ranger Che hanno propria attrezzatura E propria anche licenza Penso che questa possa essere Una soluzione alternativa Oltre al fatto Che non vi nascondo Che abbiamo inserito in bilancio Due milioni di euro Che è una cifra molto importante Per il potenziamento Della videossorveglianza Che è un deterrente Direi eccezionale Nei confronti Della criminalità Soprattutto i nuovi sistemi Che riescono a inquadrare In maniera molto netta Quelli che sono i volti Delle persone Questi sistemi Sono estremamente efficienti Vorrei che parlassimo di tante cose Chiaramente poi il tempo vola Sono già quasi dieci minuti Campi nomadi Il tema poi del nuovo ospedale Chiaramente la patente Punti per i bar Se poi ci sono novità Quindi ci arriviamo Però volevo chiedere A Francesco Ratai Se ci prepari la foto Che lei ha messo su Twitter Credo poche ore fa Quella di Piazzale Stanga Volevo vedere insieme a voi Mostrarvela Perché credo che sia Uno dei dibattiti Che poi è stato anche Di campagna elettorale O comunque degli ultimi tempi Eccolo qua Questa se non sbaglio Potrebbe essere il fagiolo Come si definisce poi In questi casi La rotonda Potrebbe essere questa La rotonda Dei Piazzale Stanga Si può fare? Noi abbiamo un piano Di opere pubbliche Molto importante Che parte proprio Quest'anno Un piano Da 12 milioni Di euro Solamente Nei primi mesi In questo piano C'è anche La realizzazione Della rotatoria Della Stanga Qui vedete Un esempio È una rotatoria Che sarà realizzata Con una forma diversa Rispetto a quelle Che vedete in giro Perché sono due Rotatorie inserite Assieme Ho già uno studio Fatto internamente Perché non nascondiamo Che c'è stata qualche Polemica E qualche critica Da parte dell'opposizione Che dice che Alla Stanga Non è possibile Realizzare una rotatoria Io penso che Riusciremo Invece A dimostrare Che È possibile Realizzare una rotatoria E soprattutto Che ci sarà Un importante Calo Di quelle che sono Le attese In uno dei punti Focali Della città In Campania Torale Abbiamo parlato di questo Abbiamo parlato Dell'Arco di Giano Abbiamo parlato Di problemi Della viabilità Della stazione Che abbiamo peraltro Già risolto Perché come è noto Abbiamo già modificato La viabilità Anche davanti alla stazione Adesso è possibile Arrivare finalmente con la macchina Davanti alla stazione Dei treni Vorrei rivedere Sentiamo subito La telefonata da casa Ma rivedere solo un attimo Quell'immagine Quindi Quella potrebbe essere La rotonda Ma al centro Si circola? No Ma questo Sono legate Sono attaccate Questa è un'ipotesi In realtà Io in settimana Presenterò quello Che è il progetto Il progetto A cui sta già Lavorando Tempi L'ufficio tecnico Ovviamente Un'opera di questo tipo Va realizzata Per stracci funzionali Nel senso È un nodo Di traffico Più importante Che c'è a Padova Quindi Non potrà essere realizzata In un'unica soluzione Il progetto è unico Ma prevede Delle realizzazioni parziali In modo che Possa essere completata Nell'arco di questo anno Sentiamo chi c'è al telefono Pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno Volevo parlare Con il signor sindaco Con chi parliamo signora? È Silvana Di Piove di Sacco Prego Silvana Prego È con Silvana Di Piove di Sacco Abbassi il volume Del televisore Però se no non ci sentiamo Sì, va bene Il sindaco è per lei Prego Sì, grazie Silvana Silvana è già in diretta Attenzione È con noi Prego Posso parlare? Sì, prego Silvana Grazie Grazie Buongiorno Volevo chiedere Una cosa Il signor sindaco Silvana Ascolti me Deve abbassare Il volume del televisore Perché se no non ci sentiremo mai Ancora Ancora Perché deve ascoltare Noi al telefono Lo dico anche a chi Chiamerà dopo Non tenete alto Il volume del televisore Parlate solo Se no sempre Il ritorno Quindi non parla mai Cioè la distanza da tv Poi per arrivare dal sindaco Dal comune di Piove di Sacco Prego Silvana Dica Allora Volevo dire una cosa Signor sindaco Sì Noi abbiamo bisogno Di andare all'ospedale Di Piove di Sacco In continuazione Perché ho mio marito Che non sta bene E siamo tormentati Da questa gente Che ogni mattina Ogni Qualsiasi giorno Viene a chiedere i soldi Quando siamo dentro All'ospedale Ma anche con brutte maniere Insomma Gente che non rispetta Non rispetta neanche Non rispettano niente Poi andiamo al supermercato Anche là Ti tolgono il carello Dalle mani E fanno tutti questi gesti Insomma Di avere anche paura Io non so più cosa fare Come dobbiamo comportarci Con questa gente Grazie signora Grazie Io la ringrazio Signora Io però sono il sindaco Di Padova So che Piove di Sacco Invece È governato Da un sindaco Del PD Ecco quindi Io penso Signora che debba parlarne Con il sindaco Di Piove di Sacco Però i problemi Un po' sono Un po' uguali Dappertutto Un po' per tutti Ecco Noi abbiamo fatto Questa importante Modifica Del regolamento Di polizia municipale Che è stato Completamente rinnovato Inserendo Proprio Questa tipologia Cioè il fatto Della mendicità Non solo Molesta Che c'è un po' Dappertutto C'è anche davanti Gli ospedali C'è nei parcheggi Sono stato Molto criticato Per questa scelta Che è stata fatta Dopo in realtà Capisco che invece La gente La gente come lei Signora Dalla nostra parte Perché Io sono d'accordo Sul fatto Che bisogna Aiutare le persone E che Bisogna cercare Di aiutare Soprattutto quelli Che sono più indifesi E le persone Che non arrivano A fine mese Però in realtà Sotto Questi fenomeni C'è un racket Molto Importante Molto Pesante Continuiamo a ripeterlo Organizzato Dove Vengono accompagnati Magari persone mutilate Con la carrozzina Proprio davanti agli ospedali Davanti alle case di riposo Nei punti di passaggio E poi raccogliere Io penso che La carita Sì il comune I servizi sociali Possano aiutare le persone E non è dando l'euro O dando i 50 centesimi Che si possono aiutare Queste persone Sentiamo ancora Chi c'è in linea Pronto? Pronto? Ecco Abbassi il volume del televisore Lo diciamo subito Prego Abbassi il volume Con chi parliamo signora? Va bene Con chi parliamo? Posso parlare? Sì è già in diretta Prego Dica Va bene Pronto? Dica signora Sì sono in linea Ah sì Eh mi sa che O ci sono troppe persone Che parlano lì in casa Appunto è questo Ecco Attenda un attimo Perché ho già Ho spento La televisione Va bene Ecco dopo la riaccenda Però mi raccomando Allora Sì sì Cosa vuole dire Il sindaco Bitonci Prego Prego Pronto? Sì Pronto? Sì signora Prego Parlo con Bitonco Il sindaco Sì Sono io signora Sono qua Buongiorno A soia Non ha coraggio Sindaco Sono la signora Fanton Ah buongiorno signora Prego Buongiorno Che abbiamo Abbiamo speso Tutta la pensione Per poter parlare Con lei Dai Dai sindaco Signora prego Faccia una domanda Adesso che sono in diretta Sì Io lo ringrazio Che mi avete messo in diretta E voglio parlare Con il nostro sindaco Si dice la trasmissione Ma che io ho tante persone Che parlano No signora Deve abbassare Il nome del televisore La prego Di fare la domanda Al sindaco Signor sindaco Signor Anticipo io la domanda Che domanda La farmacia La famosa farmacia Siamo già verificata Ecco No no Siete rimbambite Signore Via Allora Rispondo io senza domanda Va bene Signora Conosciamo tutti bene il problema La farmacia Giusto Aspettate la farmacia No non parlo della farmacia Perché me la dà una risposta Eh Adesso non sentivo Per rispondere Però Però Parliamo Del nostro quartiere Bene Signora In dieci secondi La prego Che succede? Dieci secondi Sì ma non sento La risposta Signora Ancora da iniziare a parlare Se lei non fa la domanda Cosa dice Bittonci Ecco Voglio Che il nostro sindaco Si degna Di venire E fare Gli auguri A noi nonne coraggio Che lo abbiamo chiesto Tante volte Di venire Nella nostra sala Ho una lettera Che lui sa Che io Ho una lettera sua Che mi aveva promesso Di venire Quando viene Bene Signora Grazie Grazie signora Fantone Allora adesso Passiamo il volume A lei Alzi quello della televisione Così ascolta la risposta Francesco ti prego Quando chiamano Averdi che devono passare il volume Il televisore Se no ci perdiamo 5 minuti Allora quando va in contare Le nonne coraggio La cosa è Volevano la farmacia Sono alcuni Alcuni anziani Che poi si ritrovano Presso anche una saletta Che è stata messa a disposizione Loro comunale Allora prima c'era Questo problema della farmacia L'abbiamo spiegato Più volte Che c'è un piano Di zonizzazione Delle farmacie Per cui non è possibile Spostare come volevano loro Non dipende Peraltro Come è noto Neanche da noi Perché sapete che la zonizzazione È materia di carattere regionale E quindi non di carattere comunale E poi Ecco per quanto riguarda Invece la fornitura Di farmaci C'eravamo anche resi Disponibili Portarli a casa Su richiesta Di portarli a casa Quindi Il tema un po' Anche questo No Nel senso che dopo Se c'è richiesta Ci sono delle farmacie Che consegnano anche i farmaci O che possono fare Anche da attività Come dei dispensari Però lei fa incontri I quartieri Non è poi una Vado a incontrare di nuovo Le signore Non è coraggio Ma io sono andato più volte È che questo tema Della farmacia È un tema Che non è risolvibile Dal sindaco Dopo si pensa Che il sindaco Possa gestire Tutte le problematiche Ma in realtà Ci sono alcuni temi Che sono competenza Di esclusiva Regionale o statale Per cui oltre a sollecitare Il sindaco Non può fare In questo caso Non può neanche sollecitare Perché il piano Delle farmacie È quello Punto e basta Però se volete Questi farmaci Insomma Si può trovare il modo Di portarli a casa Rivisto Torniamo al tema Della farmacia Seconda cosa È vero che Beato Pellegrino Torna a doppio senso Ho letto Ho visto qualcosa Allora Sulla viabilità Stiamo facendo anche Io ovviamente Sempre in collaborazione Con l'assessore Grigoletto Che segue la viabilità Stiamo facendo Anche delle sperimentazioni Perché Da tempo Anche in campagna elettorale Abbiamo ripetuto Come C'è un problema Di accessibilità Nella città Soprattutto in alcune zone Della città E quindi faremo Delle sperimentazioni Sempre con La possibilità Ovviamente Non dovesse funzionare Come abbiamo fatto poi Anche Davanti alla stazione Che però La sta funzionando Molto bene Di rivedere La situazione complessiva Quindi In giro per la città Ci saranno Delle aperture Di varchi Dei doppi sensi Di marcia Delle rotatorie Magari nuove Ecco E dopo Fatto questo Vedremo Se funzionerà Io penso che Un sindaco Deve molto L'amministrazione Deve molto sperimentare Perché la soluzione Non ce l'ha In mano nessuno E quindi magari Si può portare Il doppio senso E dopo Vedere di Poi parliamo anche Del tram ovviamente Di una novità Perché abbiamo Delle fotografie Da mostrarvi ancora Chi c'è il telefono Pronto Abbassi il volume Del televisore Mi raccomando Prego Sì L'ho già passato Vorrei fare una domanda Dal compitonti Prego Siccome che io Sono disoccupato Da cinque anni Mi trovo in condizioni Non proprio pietose Però Più o meno Quasi simili Voglio sapere una cosa Io ho scritto Anche una lettera Mi hanno scritto Però mi hanno detto Che questa cosa Si potrebbe risolvere Dicendo da loro Però dopo Mi hanno scritto Un'altra cinque Non ho più Saputo risposta Niente Gli ho lasciato Il numero Del telefono Ma lui Per pararsi Non mi hanno mai Chiamato Non so il perché Io Fino adesso Ho fatto La bellezza Di 25 28 fabbriche Però Con il discorso Che le fabbriche Chiudono E Purtroppo Non c'è lavoro Io mi trovo A gestirmi Da solo Anche a volte A mangiare per strada Quello che trovo Insomma Non so come fare Purtroppo Ho tentato Anche tra volte Il suicidio Però Tutte le volte Mi è andata male No Per carità Più che altro Mi è andata bene Insomma Ancora qui No Mi dispiace Veramente È una condizione Che hanno Anche molti Padovani Noi come comune Abbiamo questo Progetto Progetto Mini job È per I ragazzi Su di 35 anni Poi abbiamo Un progetto Di lavori Comunali Piccoli lavori Comunali Fatto con Il pagamento Con il sistema Di voucher Rispetto al passato Sono 250 Chiamiamole Assunzioni parziali Per sei mesi Per piccoli I lavori Dall'apertura Delle biblioteche Alla pulizia Magari delle aree verdi All'apertura Delle zone E delle sale comunali Cioè ci sono tanti Piccoli lavoretti Che facciamo fare A delle persone Che sono in situazione Di disagio Come È un periodo Però limitato Si parla di sei mesi Prima era di tre mesi Noi abbiamo allungato Sei mesi Non potrà mai essere Un'occupazione Definitiva Però aiuta Persone come lei A passare A passare Un periodo Magari di difficoltà Di carattere economico Io penso che questo Sia positivo Piuttosto di dare Un contributo A fondo perduto Io sono sempre Stato dell'idea Che è meglio Creare dei lavori Che io direi Li chiamerei Lavori socialmente Utili E poi Essere impiegati In comune È ancora aperto Ovviamente Non basta Mandare una lettera Ma bisogna Venire in comune Il gabinetto Del sindaco Fare una domanda Specifica E dopo Verifichiamo La possibilità Di poter fare Questi piccoli Lavori Mandare la lettera Non è che poi Uno manda una lettera E bisogna Venire presso gli uffici Dove si fa Questo tipo di attività Per i voucher Il gabinetto Del sindaco In bocca al lupo Dunque Al telespettatore Che ci ha chiamato poco fa Allora Chi c'è ancora al telefono Diamo priorità Insomma alle telefonate Abbiamo tante cose ancora Di cui parlare Ma intanto vediamo Pronto Pronto Buongiorno Buongiorno Con chi parliamo? Gotardo In via Pinelli Di via Quartiere via Pinelli Bene Prego Ecco Signor Sino Buongiorno Prima Ho visto per caso Che è là Ed è Prego Pronto? Sì Parli pure Ecco Niente Dicendo che mi spiace Non sentivo più Niente Stavo dicendo Che abito in via Pinelli E qua in via Pinelli C'è dei giardinetti Dove che i bambini giocano C'è C'è tanti cani Però soprattutto Una cosa Volevo segnalare L'ho segnalata Altri sindaci E via eccetera Tutti quanti Mi dicono Faremo 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 Ma nessuno Mai Perché manda Competenza Uno Competenza Stato Sono andato Anche a Verde Averde Dico Non possiamo Fare niente C'è un fossato Che all'estate Viene su di quei profumi Che è lo spettacolo Dopodiché C'è C'è di tutto C'è Topi C'è zanzare È una cosa Incredibile Allora È inutile Fare dei quartieri E dopo Abbandonarli Così C'è Anziani C'è Bambini C'è tutta Questa Gente C'è C'è Andere Mi aiuta A capire Perché Non so Se il Sinoco Ha Che zona Che zona Che zona Se può Mandare qualcuno A venire A controllare Questa cosa Che zona Ha detto Quale zona Quale zona Di Padua Non ho capito Via Pinedi Crocefiscio Ah Crocefiscio Va bene Allora Ce lo segniamo Vediamo Che cosa Sì, sì, somma è con il giupincio. Grazie, grazie signor Gottardo, buona giornata. Abbiamo un piano, perché dovete anche capire che stiamo lavorando da sei mesi, però nonostante questo penso che l'assessorato al verde e alle manutenzioni stia facendo delle cose molto importanti. Abbiamo stanziato intanto una somma considerevole sia per la sistemazione dell'area verdi e anche per esempio la pulizia dei chiusini, dei fossati, quindi lei ha parlato di un fossato, i fossati ormai da anni non vengono più puliti per l'abbandono, l'incuria che c'è. Io penso invece che la pulizia dei fossati sia uno di quegli interventi importanti anche vista l'incidenza negli ultimi anni del fenomeno anche delle alluvioni e di queste piogge che non sono più delle piogge così come erano una volta ma sono torrenziali e che quindi i chiusini e i fossati devono essere puliti perché sono delle vere e proprie casse di espansione. Io penso che arriveranno anche là, ovviamente la città è grande ma sono stati stanziati delle somme importanti per le pulizie e sistemazioni di aree verde ma soprattutto di fossati e chiusini. Non riesco a fare una domanda. Però allora facciamo così, le chiedo di attendere al telefono meno di un minuto, facciamo vedere quelle fotografie che abbiamo preparato Sindaco. Chieda Francesco Ratai, via Guido Reni, quella è la zona, lo vedrete adesso tra poco dalle fotografie. Che cosa succede qui? Ma qui siamo, vedete sullo sfondo siamo in zona Arcella vicino allo svincolo poi che va a Ponte Vigo d'Arzere e questo è un terreno di proprietà comunale dove attualmente c'è questa zona in colta verde ma come si capisce non certamente utilizzabile per attività come giardini pubblici. Cosa ha pensato lì? Qui questa è una zona dove c'è una forte richiesta da parte dei residenti di tutte quante le attività di creare dei parcheggi e qua noi mantenendo gli alberi, quindi mantenendo anche una parte della zona verde, quindi facendo delle aiole, faremo un green park, cioè un parcheggio dove crescerà anche l'erba e ricaveremo circa un centinaio di posti auto. Per i residenti della zona. Per i residenti, per le attività. Questo per dire che la città ha un problema, introdurre una tematica e la città ha un problema noto e male affrontato direi in passato che è quello della mancanza di parcheggi. C'è una mancanza di parcheggi in centro storico e c'è mancanza di parcheggi in quartieri, dopo c'è mancanza di parcheggi dovute a scelte sbagliate da parte dell'amministratore precedente. Se penso a via Facciolatti, che disastro è stato fatto in via Facciolatti dove ci sono attività che stanno chiudendo perché sono ritolti magari quei pochi parcheggi. Però per contro le dicono che toglie le piste ciclabili o no? Ma si possono fare le piste ciclabili in una parte della carreggiata e dalla parte opposta fare i parcheggi. Quindi è come anche all'Arcella in una via laterale a questa via Guidoreni, anche là era stato creato un parcheggio, una pista ciclabile solamente segnandole per terra e portando via Guciardini, via Guciardini che è proprio là vicino e portando i parcheggi al di là della pista ciclabile solo segnata per terra. Noi invece con un semplice accorgimento abbiamo recuperato sia la pista ciclabile allargando il marciapiede che anche i parcheggi. C'è stata una volta che bisogna anche metterci un po' la testa in questo ambito rimarrà comunque la zona verde. In più ci saranno anche i parcheggi che gli accellanti. Verde e parcheggi, circa un settimana di parcheggi. Poi vorrei arrivare anche al portello perché si è parlato ancora una volta molto in questi giorni. Allora, una telefonata che è in attesa da un po', pronto? Buongiorno. Con chi parliamo? Allora, visto il sindaco Bitonci che fa tante belle cose, volevo chiedere se è mai venuto a vedere l'ospedale di Schiavonia. Schiavonia, Bassa Padovana, sì. Sì, sì, lo sono passato più di qualche volta. Ma dentro è andato? Molto bello, no, dentro no. Ecco, allora, quando ha tempo, quando può, può andare dentro a vedere come siamo messi. Non le piace signora? Cosa? Non le piace? Non le piace l'ospedale, cosa succede? È uno schifo, manca tutto. L'altro giorno sono andata a farmi una visita a pagamento. i computer non funzionavano, mi sono dimenticata a casa il telefonino, non c'è un telefono pubblico che si possa telefonare. Non funziona niente. Quando può vada a vedere, se ne accorgerà che hanno avuto fretta di inaugurarlo. Come hanno fretta di inaugurare, mi pare, il pronto soccorso di Cittadella. Fatto un'ora fa, un'ora fa, è già stato inaugurato, signora. Di tagliare i nastri e non funziona niente. Portano via le gomme delle macchine, tutte e quattro, fanno disastri, non c'è un portinaio. È uno schifo. È un labirinto, tutto da finire. Ti fai fare un esame, hanno le macchine che non funzionano. Grazie signora, ha fatto benissimo segnarci questa cosa, tra l'altro l'abbiamo seguito più volte. Allora, grazie, buona giornata. Visto, doveva fare il presidente della provincia, allora non doveva fare il sindaco. Perché insomma, poi riguardano anche altri comuni. Anche per altri comuni, però ci porta subito a parlare. Perché adesso i presidenti sono presidenti di enti di secondo livello, quindi non sono poco più che associazioni tra i comuni. Invece il sindaco di Padova ha una funzione di governo del territorio molto importante. Però ci porta sul tema della sanità. A che punto siamo? Sono importanti, sì, come diceva la signora, sono importanti le scatole, però quello molto più importante è il contenuto, che tante volte si dà priorità e molta importanza all'architettura o alla scatola esterna dell'ospedale. Ma in realtà l'ospedale è formato da uomini, da persone, da eccellenze come quella di Padova. A che punto siamo con l'ospedale? Ma io direi molto bene, perché è stata individuata questa zona che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale, che è la zona di San Lazzaro. Sono 280 mila metri del comune, ci sono 100 mila che possiamo acquisire con la perequazione urbanistica, quindi andiamo già a 380 mila metri. Un ospedale di quelle dimensioni, cioè mille posti letto, ha una superficie di calpestio di 200 mila metri, però ovviamente non può essere su un unico piano, di solito è su più piani. Su quattro piani sarebbe 50 mila, quindi 50 mila metri su 380 e anche più, io penso che la zona sia più che sufficiente. È una zona anche importante perché oltre ad essere vicino al centro, è vicina anche alla proposta che stiamo studiando, lo studio e la progettazione l'avremo fra qualche settimana, che è quella dell'alta velocità di Padova. Quindi ci sarà ospedale, alta velocità, anche vicino alla zona industriale, vicino alla fiera, vicino all'università, io direi una zona che è molto molto attrattiva e vicina anche all'autostrada. Perché no il tram? Il tram, visto che ultimamente ancora le hanno detto che il Padova ha perso decine di milioni di euro. Guardi, questa è una polemica che si chiude con una battuta, perché io ho parlato fino adesso di alta velocità, parlando con ferivio di estate ci hanno detto che in questi dieci anni nessuno è venuto a chiederci di fare l'alta velocità a Padova, però Vicenza ha fatto una stazione da 500 mila euro e la sappiamo dove l'hanno fatta in zona industriale e sarebbe stata fatta anche a Padova. Consideriamo che Padova è un nodo, non è di passaggio come Vicenza, quindi è ancora molto più importante l'alta velocità a Padova. Quindi io potrei ribaltare la critica e dire avete perso, ho buttato via 500 mila euro. In realtà il tram fatto a rotaia non lo voglio io e non lo vuole neanche la maggior parte dei padovani. I disastri e i danni creati alla Guizza e all'Arcella non ripagano di un servizio come quello che poteva essere fatto con il filobus o fatto con altri... Paradossalmente potesse, toglierebbe quella linea? Quindi, addirittura? Si potesse, fosse... Ma se non costasse nulla, se non costasse nulla e ci fosse la possibilità di tramutare quelle linee con linee filobus e quindi linee elettriche lo farei subito. È ovvio che non è così, perché nel momento in cui tu metti mano a un'infrastruttura così pesante, una rotaia, che ha creato molti problemi, non solo la viabilità, ma anche i padovani, perché molti si sono anche perfino fatti male su quella rotaia. Allora, 10 secondi perché stiamo già per sforare come al solito, però chiedo di sentire un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Domenico di Cadoneghe. Prego, Domenico. Prego, Domenico di Cadonegrafica. Volevo sapere se il signor Sindaco, al quale ha dovuto atto del miglioramento avvenuto in città, ha in previsione la pulizia delle orribili scritte che sono anche per esempio in zona Salone e se prevede di togliere anche quel brutto arco che si trova a Porta Contarine, costato 100 milioni delle vecchie... 100 milioni? Sono un sacco di soldi delle vecchie lire e che è inutilizzabile. Grazie. Grazie, grazie Domenico. Grazie al suggerimento anche se non ho capito la prima parte. I writers, i writers, sono scritte anche vicino al Salone. No, questa è anche una delle modifiche che abbiamo fatto del nuovo regolamento di Polizia Municipale, cioè prima non c'era, adesso invece una delle sanzioni che abbiamo inserito è anche quella relativa a quelli che sporcano e quindi i writers. È logico che non è facile poi individuarli nel momento in cui lo fanno sulle telecamere, su questo diventano fondamentali. Visto che parliamo del centro, vorrei sapere dalla regia quanto possiamo sforare in minuti, perché ne approfittiamo, ma patente a punti per i bar? È una novità assoluta che ha dato già un ampio riscontro nei comuni che l'hanno applicato nell'Alta Padovana. È un sistema sanzionatorio ma anche premiale, nel senso che il premio ovviamente è in orario e il premio sarà anche in alcuni sconti che faremo sul plateatico e sugli altri ovviamente tassazione che hanno i bar e i ristoranti. Il sistema funziona se c'è la collaborazione da parte ovviamente dei baristi. I pubblici esercizi devono, e chi li gestisce, deve capire che hanno una responsabilità. La responsabilità non può essere solamente quella all'interno del locale, ma deve essere anche quella prospicente. Però osservazione, non è che magari qualcuno poi cercherà anche di danneggiare questi bar, cercare di far perdere punti in qualche maniera prendendole di mira, non so, cittadini che chiamano la polizia... No, intanto resettiamo la situazione. Cioè, io sono convinto che un grande deterrente nei confronti della criminalità sia anche quello che la gente esca di casa e comincia a riappropriarsi del territorio, uscire, andare al bar, bere qualcosa, mangiare un gelato, camminare per la città. È un grande deterrente nei confronti della criminalità questo. È logico che ci vuole la collaborazione, quindi noi daremo la possibilità a tutti, quasi tutti, perché ci sono situazioni magari in alcune vie particolari molto strette, dove effettivamente non possono stare le persone fuori, dove c'è già rilevato un grande disturbo, là purtroppo l'orario rimarrà quello che è. Però nelle piazze l'orario verrà ampliato, come anche nel resto della città, però attenzione perché ovviamente se ci saranno problemi, se saranno accertati, quindi non solo la segnalazione, ma accertati da parte delle autorità, ovviamente la patente a punti prevede anche la perdita di punti e quindi la possibilità di tornare indietro. Da quanti punti si parte? Curiosità, no? Cioè avete già pensato. Questo è le due di notte e dopo. Va bene, allora, abbiamo sforato però, chiedo scusa, ma altri due minuti li prendiamo. Portello si sta discutendo molto in questi giorni sugli allagamenti, allagamenti sì e allagamenti no di questa piazza, poi rifatto un po' dall'amministrazione precedente, e la viabilità invece. Come finirà questa... Ma è fondamentale l'abbellimento del centro storico ed è per quello che abbiamo deciso di stanziare una somma importante per iniziare il restauro delle mura padovane, dei 15 chilometri di mura padovane, peraltro bellissime, che verranno riportate agli antichi splendori. Su questo c'è anche altri progetti... Oltre alla fondazione c'è come un grande imprenditore, no? Come si fa adesso? Si mettono... Ma... Quindi una quota del comune, una quota della fondazione, già 2 milioni di euro quest'anno per cominciare, insomma, a ristrutturare nella zona dei bastioni. Il portello è una tematica molto delicata, dal mio punto di vista sono stati buttati via dei soldi, dei padovani, perché si poteva realizzare comunque una sistemazione della piazza senza che fosse così invasiva l'attraversamento della piazza. Per proteggere gli studenti. È comunque fondamentale, sì, però si poteva tranquillamente rallentare il passaggio delle auto con dei passaggi magari rialzati, senza un intervento così invasivo e anche che sta avendo un riscontro non positivo nei confronti della popolazione, perché i soldi devono essere spesi, ma spesi bene. Se penso ai lavori fatti in via Cardan, cioè in via Cardan dove c'era la doppia corsia e bastava forse realizzare qualche passaggio, magari pedonalizzare piccole porzioni, là sono stati spesi 8-900 mila euro di soldi dei padovani con un risultato peggiore rispetto a voi. Sindaco, 20 secondi. L'ultima domanda, ci avviciniamo ormai, è già iniziata la campagna elettorale, per ora per quanto riguarda la presidenza della regione del Veneto, sapete ci sono in campo Luca Zai, Alessandro Moriti, Jacopo Berti, Padovano del Movimento 5 Stelle. La sua lista non ci sarà quindi a questo punto, da quello che ha detto Salvini, no? Ma al federale di settimana scorsa, il segretario Salvini è stato molto chiaro, ha ripetuto che ci saranno due liste per la Lega, la lista della Lega Nord e Lega Veneta, e la lista del governatore Zai, come poi è stato a Padova, dove c'era la lista della Lega Nord e dopo la lista Bitonci, quindi penso che sia la formula migliore. Peraltro, come è noto, io cercherò di dare una mano al nostro governatore che ha ben lavorato in questi anni, e che quindi cercheremo tutti di spingere per altri cinque anni alla gestione del Veneto. Il nome ce l'ha presente di un Padova, no? No, ma l'iter sarà quello delle sezioni, le sezioni daranno indicazione poi alle segreterie, e penso che dovrà essere dato spazio ovviamente a persone che hanno voglia di fare, voglia di lavorare, c'è anche bisogno di cambiamento, devo dire la verità, no? Perché magari ci sono persone che hanno già fatto tre mandati in regione, in effetti c'è tutto questo tema che è un tema nazionale, è un tema regionale del doppio mandato, quando una persona ha fatto dieci anni la stessa cosa, questo dovrebbe valere per il Parlamento, ma anche per la Regione, quando uno ha fatto dieci anni all'interno della struttura regionale, io penso che quello che ha dato, ha dato, è giusto lasciare spazio magari a persone che possono essere più incentivate, perché io sono dell'idea che dopo tanti anni magari si creano anche dei meccanismi, degli automatismi, che è meglio che le strutture pubbliche non ci siano. Quindi l'alternanza. Direi di sì. Allora, direi che abbiamo concluso, sforato di 5-6 minuti, chiediamo scusa alla programmazione, grazie Sindaco di Padua Massimo Abitonci, ci rivediamo, lo facciamo il tagliando tra qualche giorno, vedremo anche come reagisce l'opposizione a questa sua intervista, come va a proposito del Consiglio? No, ma ci sono normali scaramucce, anche dialettiche, ma niente di particolare. Si arrabbia molto lei. Ma io sono moderato, però anche certe volte focoso, dopo tutto il Consiglio Comunale, per chi ci ascolta, ci sta in consiglio molte ore, molte volte si comincia magari le tre pomeriggio, e le tre di notte si è ancora in consiglio. Qualche parolina, qualche escandescenza, può scappare a tutti, scappa anche a me, ma insomma, chi mi conosce sa benissimo che sono fatto anche così, cerco di essere sempre genuino, se ho qualcosa da dire, lo dico direttamente. Bocca al lupo, buon lavoro, Massimo Abitonci, grazie a voi per averci seguito, i telegiornali come sempre, a partire dalle 18.30. Grazie, buona giornata. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.